Dunque il laicato, la storia del laicato cristiano e la riflessione su questa componente essenziale e maggioritaria della Chiesa di Cristo non nasce con il Concilio Vaticano II. Basterebbe pensare la schiera dei martiri dei primi secoli, non mi pare che fossero frati e suore, la maggioranza di loro erano laici, c'erano papi, vescovi, sacerdoti, diaconi, ma una schiera infinita di laici. Pensavo nei giorni scorsi ai martiri di Uganda, i paggi del re di Uganda, che sono stati martirizzati, cattolici e non cattolici. È stata una prima canonizzazione di santi martiri in cui poi si è scoperto che i canonizzati non erano tutti cattolici. Io ero un ragazzino delle media all'epoca, avevo per professore il nobilissimo Don Calisto, che aveva i capelli neri come adesso, forse appena qualcuno di più. Dunque noi da ragazzi siamo sempre trionfalisti i ragazzi, ma adesso che non sono più un ragazzo, quando ripenso a questa beatificazione vedo che è un'esaltazione della Chiesa. La Chiesa di Uganda è nata sul sangue dei laici, se lo vogliamo funzionalizzare al tema di oggi. Quindi la storia del laicato e la riflessione anche su questa componente essenziale e maggioritaria della Chiesa di Cristo non nasce con il Concilio Vaticano II. La Chiesa e la società carpigiana lo sanno particolarmente bene. Il nostro diocesano e concittadino Odoardo Fucherini è un esempio straordinario di cristiano laico preconciliare. 21 anni prima della fine del Concilio, a meno di vent'anni dall'inizio del Concilio, il nostro carissimo Odoardo Fucherini ha raggiunto il culmine del suo martirio nell'infermeria del campo di concentramento di Ersbruck. Era il 27 dicembre del 1944. L'8 dicembre del 65, vedete che ci sono 21 anni appena, neanche 21 anni interi, si chiudeva il Vaticano II. La Chiesa di Carpi ha conosciuto già da secoli il dono di un beato e poi di un santo nella figura di un religioso nato in questa città. Si tratta, come sappiamo bene, del gesuita carpigiano San Bernardino Realino, che fu tra i primi seguaci di Sant'Ignazio di Loyola. In questo nostro tempo la stessa Chiesa, che ha avuto come grande patrono dalla fine del Cinquecento fino ad oggi la grande figura di Bernardino Realino, sta per ricevere un dono straordinario del riconoscimento della santità, anche se nel grado iniziale di beato, però di santità si tratta, per un nostro cristiano laico, il martire Odoardo Fucherini, che ha vissuto tra noi e che si è formato in questa piccola e grande Chiesa. Metterli insieme e conoscere un po' l'annuario pontificio e il panorama delle diocesi italiane è certamente un grande orgoglio. Di fronte al tema che mi avete proposto, io ho pensato, mi è venuto in mente subito, dico, ma guarda, la Chiesa di Carpi ha un religioso di prima grandezza come Bernardino Realino, uno dei primi seguaci di Sant'Ignazio di Loyola. La sua vita è stato anche sindaco, si potrebbe evolvere, elaborare come laico, da giovane è stato un laico, ma il grosso della sua vita è vissuto oltre 80 anni, è stata da religioso nella città di Lecce, dove ha avuto un rilievo grandissimo, vivente, fu proclamato vivente patrono di quella città, gli portarono le chiavi della città perché la custodisse. Ecco, noi oggi assistiamo, ed è un fenomeno prima del concilio, quindi voi capite il mio imbarazzo, mentre mi facevo la barba dicevo, ma tu cosa vai a Carpi a dire? La novità del concilio Vaticano II sui laici, quando Carpi aveva già da vent'anni un laico della statura di Odoardo Fuccherini, ma cosa vai a fare? Cosa gli dici? È un po' di panna montata, qualcosa del genere. Stiamo allora un attimo su questa figura di laico e martire. Lui è tutte e due le cose. Odoardo Fuccherini è un laico perché ha vissuto la sua vita e la sua santità non nell'essere prete, non nell'essere religioso, ma nel lavoro, nell'apostolato, nel matrimonio, nella famiglia. Pensate il numero dei figli e l'attenzione che dedica loro. Pensate per esempio il tema della prima comunione di Rodolfo nelle lettere dal carcere, uno dei temi più trattato robustamente. Aveva altro a cui pensare, ma di continuo si preoccupava che il bambino non facesse la prima comunione nella mestizia del padre lontano. Pensate la sua carità ordinaria. Pensate il rapporto con Mammanina, c'è una foto stupenda dove si vede Manzini, che era un uomo illustre, Mammanina, il fratello di Mammanina, Monsignor Vincenzo Saltini e in un angolo c'è il nostro Odoardo che imbocca una bambina di Mammanina. Questa è quella che io chiamo la carità ordinaria. E anche ha vissuto la carità fuori dall'ordinario. Ha avuto compassione, senza fare rumore, della persecuzione degli ebrei. Indipendentemente da come sia andata a finire la storia, quello che ho elencato adesso è materia di santità di un laico. Un laico anche, vado avanti ancora un po', che non ha paura di lavorare nella Chiesa, di impegnarsi nell'Apostolato, di essere messo in ombra e assorbito dai preti. Nella sua vita lui ha incontrato preti piuttosto ingombranti. Pensate Don Zeno Saltini, c'è gente scomoda, non credo che fosse così comodo lavorarci insieme. Mi sembra di poter dire con schiettezza che non ha avuto paura di essere un laico e non ha detto ma se lavoro con i preti mi mettono in ombra. Non si vede bene cosa io faccio. Tutto verrà assorbito da loro. Vedete che questi pensieri io me li invento per mostrare com'è, ma certamente non hanno mai attraversato il suo pensiero. Questo aspetto è testimoniato bene dalla militanza nell'azione cattolica, dove non ha neanche raggiunto i massimi vertici. Ha sempre militato da caporal maggiore, non molto oltre. Pensate l'amicizia e l'affetto per tanti laici impegnati, il fidato collaboratore Sacchetti, il direttore dell'Avenire d'Italia bolognese, il dottor della morte. Teresio Olivelli è il testimone diretto della morte di Odoardo. Nella stessa linea va la collaborazione con il sacerdote diocesano Don Dante Sala per la messa in salvo degli ebrei. Dunque un laico, lo dico qui siamo in un contesto familiare, che non aveva, era bravo, ma non aveva la puzza sotto il naso, che non aiuta i preti la puzza sotto il naso, ma non aiuta neanche i laici. Odoardo Focherini però non è stato solo questo, è stato laico ed è stato martire. Ha avuto il coraggio di accettare di essere un grande martire, non ha cercato il martirio. All'inizio della prigionia ha sperato di poter tornare alla sua casa. Chi lega le sue lettere dal carcere vede che i primi giorni, le prime settimane è affannato, perché capisce che il tempo è proprio breve, è affannato di cercare appoggi, probabilmente persino si è fatto ingannare da un altro personaggio ambiguo presente nella prigione che gli prometteva aiuti, sostegni, eccetera. Non ha cercato il martirio. All'inizio della prigionia ha sperato di poter tornare alla sua casa, ma quando il Signore gli ha presentato il calice della croce non si è tirato indietro, ma si è consapevolmente offerto.